buonasera a tutti buonasera da emanuele che sarei io e buonasera mirella buonasera buonasera chiara buonasera a tutti e buonasera michela buonasera a tutti io sono emanuele e prima di iniziare vi do qualche nozione tecnica sull'utilizzo della piattaforma siamo su go to webinar potete comunicare con noi quando volete come volete ma solo scrivendo attraverso la chat vedo che qualcuno ha già iniziato a scrivere e ci salutano raffaella e giulia ciao scriveteci lì magari scriveteci anche da dove siete collegati che anche se in teoria lo sappiamo forse no non mettete la città non me lo ricordo scriveteci da dove siete collegati che ci fa sempre piacere e noi siamo veniamo dal webinar precedente dove abbiamo incontrato i docenti della primaria della secondaria in primo grado e questo invece è dedicato a voi della secondaria di secondo grado quindi benvenuti a tutti scrivete lì dove c'è scritto chat slash domande o solo domande o solo chat noi vi leggiamo in alcuni casi vi rispondiamo per iscritto in altri casi invece leggiamo ai relatori alle relatrici di oggi le osservazioni e quindi andiamo a condividerle con tutti la chat non è letta dagli altri utenti della comunità quindi non vi legge nessun altro oltre che a noi organizzatori vado a condividere non lo schermo principale ma ce la posso fare la presentazione eccola qua dovreste poterla vedere intanto così per informazioni collegati da treviso alessandria nuoro così adesso ci hanno scritto sì vediamo perfetto prima di presentarci siamo all'interno del progetto rotali per la sostenibilità di cui Mirella Adamo è coordinatrice e di cui scuola di robotica di cui facciamo parte io e Michela e redoc.com di cui fa parte Chiara Burberi siamo partner da ormai dall'inizio del progetto questo incontro si chiama 3d design challenge idea crea e stampa ed è dedicato alla nuova sfida che all'interno della community roteri per la sostenibilità abbiamo ideato cosa facciamo oggi intanto cercheremo dopo esserci presentati di capire per chi è questo regalo perché dal nostro punto di vista è un vero e proprio regalo che vi forniremo un regalo digitale in una determinata maniera insieme a Mirella scopriremo le attività inerenti la sfida e quindi quali saranno le attività didattiche che vi chiediamo di fare con le vostre classi con le vostre studentesse e studenti cosa troverete cioè qual è il materiale didattico che mettiamo a disposizione per voi come docenti ma anche per i vostri allievi lo scopriremo e perché poi c'è il CAD 3d e Michela ci farà un focus su un software dove scopriremo di più e meglio come utilizzare questo software perché parliamo di economia e ce ne parlerà Chiara Burberry e quindi scopriremo il materiale dedicato alla parte finanziaria economica e poi cercheremo di parlare di ispirazione sul tema ma adesso due parole su chi siamo partiamo dalla coordinatrice del progetto Mirella due parole sul progetto e poi la parola a Chiara a Michela e a me. Allora buonasera a tutti Rotary per la sostenibilità è una piattaforma digitale sulla sostenibilità e sulla sostenibilità a 360 gradi nel senso che tratta dall'agenda 2030 anche all'educazione civica quindi sulla cittadinanza digitale sulla costituzione e quindi anche su tutti quegli aspetti legati anche alla legalità a una parte gratuita completamente a una parte open aperta a tutti e una parte di community dove le studentesse e gli studenti rispondono a delle attività che noi lanciamo mensilmente mese di marzo perché questo sarà attivo diciamo questa challenge dal primo marzo abbiamo pensato e ideato con Emanuele e con Chiara ad un'attività un po' particolare proprio per mettere un po' insieme tutte le competenze e le conoscenze dei ragazzi. Grazie Mirella invece Chiara ti chiedo di presentare di presentare Redoc.com. Buonasera a tutte e a tutti sono Chiara Burberi di Redoc.com anzi visto che siete docenti di scuola.redoc.com che è una piattaforma di didattica digitale integrata didattica digitale quindi video esercizi interattivi spiegati come un grande gioco online alta accessibilità ma anche tanto materiale scaricabile ne vedrete a brevissimo quello che abbiamo preparato appunto per la lezione di economia già anticipata da Emanuele. Didattica digitale integrata per noi vuol dire non soltanto didattica innovativa a scuola ma anche a distanza e quindi se avrete voglia appunto di registrarvi in piattaforma appunto per andare a ottenere queste la visibilità di questa lezione che vi ho preparato voi potrete anche accedere a un saggio gratuito che vi permette di provare a vedere appunto i contenuti disponibili sulla piattaforma che sono innanzitutto per la scuola seconda del secondo grado matematica fisica ma anche italiano letteratura storia filosofia fino alla maturità che quest'anno è orale però insomma noi abbiamo qualcosa anche per quello. Benissimo grazie Chiara chiedo a Michela di presentarti. Grazie Emanuele mi presento sono Michela lavoro a scuola di robotica con Emanuele scuola di robotica poi vi dirà anche qualcosa Emanuele è un'associazione ci occupiamo di diversi ambiti lavoriamo in diversi settori a partire dal coding la robotica educativa robotica umanoide la stampa 3d quindi in tantissimi settori siamo ente formatore miur e poi lavoriamo anche in altri progetti europei nazionali su diversi settori lascio la parola Emanuele grazie Michela Michela poi dato che segue alcuni progetti dedicati alla realizzazione di protesi partendo da software 3d sarà proprio lei che vi guiderà nei video tutorial alla scoperta di tinker cad per realizzare il progetto la sfida di questa di questo mese della 3d design challenge io sono Emanuele Micheli su scuola robotica Michela ha già dato alcune informazioni siamo partner in Rotary per sostenibilità dalla sua nascita siamo molto contenti di occuparci sostenibilità sotto svariati punti di vista e quindi è arrivato il momento di scoprire attraverso le parole di Mirella a chi è destinato questo regalo di Rotary per la sostenibilità allora il regalo è destinato sia ai docenti che tramite i docenti anche agli studenti soprattutto quindi perché abbiamo proposto proposto un'attività che chiede agli studenti di ragionare ecco riprendo anche una parola che aveva detto anche anche Emanuele proprio di ragionare su pensare quindi su un paese a loro passi la successiva slide eccomi qua ecco quindi di ragionare sui valori c'era stato un piccolo mi si era bloccata la presentazione scusami Mirella ma ora è tornata ora funziona tutto ti ridò la parola perfetto di ragionare sui valori di una città che piace oppure di un paese che può essere la città natale anche un po di luce è arrivata che può essere la città natale piuttosto che è un paese un continente un luogo che può essere anche amato perché rappresenta o una situazione particolare o dal punto di vista anche per esempio naturalistico o un oasi o altro quindi quel luogo che è pieno diciamo di emozioni e che quindi vale la pena comunicare per comunicarlo bisogna individuare però un soggetto che possa essere un luogo prodotto artistico piuttosto che un cibo perché a volte certi luoghi sono più rappresentati diciamo da qualcosa io dico un po più popolare un po più poppo che magari da un quadro particolare o da una chiesa un monumento altro una volta individuato questo luogo questo soggetto parla di soggetto che meglio si rappresenta questo luogo spiegare perché è quel soggetto al fornire alcuni cenni sulla storia e condividere la modalità più sostenibile creativa per realizzarlo se si tratta di un paese straniero la presentazione si può fare anche nella lingua e quindi naturalmente secondo voi siete una secondaria di secondo grado quindi sicuramente i vostri studenti avranno competenze linguistiche e quindi possono naturalmente parlare e descrivere questo in lingua a questo punto una volta che si è scelto il soggetto si è capito qual è la motivazione perché quello è anche importante si disegna e si progetta per la stampa in 3d quindi diciamo che la la novità diciamo è un po proprio proprio questa però la challenge non finisce qui nel senso che bisogna ipotizzare una stima del costo per produrre del prezzo di vendita perché potete immaginare di vendere questo ormai diventato il soggetto è diventato oggetto durante l'open day della scuola perché per acquistare qualcosa per la scuola che sia necessaria per fare delle attività quindi può essere da materiale a didattico abbonamento per esempio a qualcosa piuttosto che a un laboratorio o un software qualcosa oppure banalmente diciamo un oggetto che possa essere utile però inerente a quelle che sono le attività didattiche in corso cioè non ipotizzare l'acquisto così a caso ma anche qui un essere coerenti con la realtà in cui si opera per operare acquistare qualcosa che possa essere utile per le attività didattiche a scuola quindi perché proporre questa attività gli studenti quali diciamo al valore aggiunto a innanzitutto avete notato l'approccio pluridisciplinare quindi dalla tecnologia alla creatività perché si tratta di mettere in campo proprio le proprie anche le proprie le proprie emozioni alla matematica perché si tratta anche di fare una budget un business plan quindi di avere l'idea di che cosa può costare di cosa può vendere di che cosa può essere il ricavo da investire quindi anche l'investimento è un lavoro collaborativo perché non sarà il singolo studente a farlo da solo ma sarà insieme con gli altri compagni e anche qui l'attività potrà essere svolta in gruppi e la eterogeneità dei gruppi anche delle competenze dei ragazzi sono quelle che sicuramente aiutano e contribuiscono al buon successo della challenge può essere anche una unità di educazione c una unità didattica di educazione civica che può concorrere alla monte ore perché come avete visto abbiamo la cittadinanza digitale cittadinanza digitale non vuol dire soltanto parlare di cyberbullismo piuttosto che che di altre cose diciamo del pfishing o altro ma significa anche possedere le tecnologie e utilizzarle in maniera consapevole per studiare per produrre anche dei progetti e può offrire anche elementi di per la valutazione perché naturalmente dal lavoro collaborativo e dai prodotti che nasceranno i docenti o i docenti del consiglio di classe possono vedere anche la motivazione del ragazzo e delle ragazze per capire come anche lavorano nel momento in cui lavorano insieme agli altri perché a volte le qualità e le potenzialità si vedono più che in una interrogazione in un lavoro insieme ad altri dove si assumono delle funzioni che possono essere di leader di supportare o altro più che invece in altre interrogazioni quindi questa è una challenge ve la proponiamo perché pensiamo che possa servire soprattutto a rendere i ragazzi protagonisti un po anche del del loro apprendimento grazie Mirella quindi questa è sono le attività che speriamo potrete svolgere nel mese di marzo perché qualcuno mi chiede ma dove sono le regole quali sono i vincoli piano piano vediamo tutto e nella piattaforma i roteri per sostenibilità ci sarà tutto quindi quello che vi chiederemo è di registrarvi a roteri per la sostenibilità che vi ricordiamo è una registrazione gratuita e tutti i materiali all'interno del progetto della community sono gratuiti io scherzo sempre sono genovese e quindi la parola gratis la devo ripetere 18 volte magari anche con un accento un po più genovese e quindi sicuramente è bene ricordarlo vedremo poi alla fine del webinar come ci registriamo a roteri per la sostenibilità per accedere ai contenuti alle modalità di upload dei materiali fatti con i vostri studenti le vostre studentesse insomma ci sarà un po di note tecniche quindi per chi per i docenti che mi stavano scrivendo in chat ogni tanto se mi vedete distratto perché rispondo in chat è proprio per questo motivo per cercare di darvi un supporto e capire come accedere a questo materiale cosa troverete nel regalo questo webinar anche la registrazione quindi se volete fare dissemination diventare evangelizzatori di roteri per la sostenibilità potete farlo perché basta dare questo link fra l'altro ai vostri colleghi e questo webinar rimane registrato così le slide saranno messe all'interno del materiale didattico poi troverete una video un video missione dove racconteremo a voi e ai vostri studenti un video unico che potete dare dura tre minuti non tanto un video yes we can come li chiamo io cioè potete farlo si può fare se puede dicevano gli spagnoli e e poi video tutorial preparati dalla nostra michela che poi ci darà qualche notizia in più dal punto di vista didattico dedicati a tinker cam e poi le lezioni di economia finanziaria preparati da chiara burberi che adesso ci racconterà meglio come accedere ai materiali didattici veramente molto interessanti che potete trovare per la novità di questo progetto proprio dedicati all'economia non abbiamo ancora fatto qualcosa dedicato all'economia e quindi siamo molto contenti per cui per questa parte chiara se sei pronta io ti cedo la palla di relatrice e ti faccio condividere bene vado bene condivido lo schermo e sta per arrivarti la possibilità di condividere lo schermo eccoci per arrivare ora vediamo tutto eccoci qua benissimo allora buonasera a tutti ancora ecco qua su scuola punto redo punto com come dicevo la piattaforma di didattica per la scuola potete registrarvi se non lo avete ancora fatto come i docenti seguite le istruzioni come docenti scegliete il saggio gratuito sicuramente per scuola secondaria di secondo grado visto che siete docenti che appunto delle scuole di secondo grado sto scrollando in home page e scendo i contenuti primaria secondaria di prima di secondo grado vi ricordo che abbiamo matematica fisica italiano letteratura storia filosofia fino alla maturità prima e seconda prova e poi sezioni completamente gratuite come i giochi laboratori ed educazione finanziaria ecco qui dovete cliccare ma troverete naturalmente sulla piattaforma rotari per la sostenibilità tutte le indicazioni è quindi non vi dovete preoccupare e nel caso potete scrivere oa rotari oa noi per essere guidati quindi cliccate nella sezione educazione finanziaria e ecco si aprono le varie sezioni e con materiale di nuovo tutto gratuito quindi potete navigare con grande diciamo libertà vi ricordo peraltro che noi stiamo offrendo dei percorsi pct o completamente gratuiti proprio non solo di sulla sostenibilità che trovate nelle sezioni laboratori ma anche di educazione finanziaria qui capire la finanza glossario di educazione finanziaria in questa sezione economia ed è proprio in questa sezione economia dove fino a due giorni fa letteralmente c'era soltanto questo capitolo dall'idea di business alla start up una serie di lezioni appunto che guidano i ragazzi e le ragazze a definire dall'idea appunto un business plan di una start up abbiamo creato anche un capitolo dedicato appunto al business plan un po più specifico proprio su richiesta di Mirella che abbiamo accolto con grande felicità perché non avevamo mai sviluppato un materiale così e insomma siamo stati contenti di farlo c'è una lezione per la primaria una per la secondaria di primo grado e quindi la il business model canvas e il conto economico per la scuola secondaria di secondo grado naturalmente sono tre lezioni a difficoltà crescente come potete immaginare non sono necessari peraltro anche in questo caso per il business model e conto economico per la scuola secondaria di secondo grado particolari prerequisiti basta leggere con attenzione e curiosità tra l'altro noi attiveremo anche il text to speech ecco mi ero dimenticata di dirlo prima adesso lo stiamo nei prossimi giorni apparirà quindi anche il lettore automatico di tutti i contenuti ma vi assicuro è materiale che se letto con attenzione può essere compreso e poi io dico sempre ho una grandissima fiducia negli studenti e le studentesse basta che siano un po incentivati a fare una cosa un po' diversa un po' così interessante appunto questo regalo che è stato un po' montato idea guidata da Mirella sicuramente saranno attratti come prima parte vi presentiamo il famoso ormai business model canvas non è altro che uno strumento che aiuta a definire in modo ordinato mi viene da dire ecco e visivo anche il modello di business di un progetto di un'azienda in questo caso effettivamente il lavoro il progetto che vi propone che propone Mirella per i vostri ragazzi e ragazze è effettivamente può diventare quasi proprio un business no se vogliamo perché no potrebbe alimentare l'acquisto appunto di materiale didattico per la scuola o magari raccogliere soldi per fare una piccola gita o comunque un'attività didattica per la classe per la scuola questo business model canvas viene descritto nelle sue parti e nelle modalità di utilizzo nella parte successiva del post e naturalmente qua in fondo lo potete anche scaricare e stampare questo bottone fa una segnalazione lo utilizzate se voi aveste qualunque tipo di problema o domanda o curiosità in relazione appunto all'argomento del post segue un post che spiega che cosa sono i costi i costi di produzione i costi di distribuzione quindi un post che declina tutte le tipologie di costi per natura e variabilità materie prime semi lavorati costi del personale ma anche costi variabili e fissi quindi visto che siamo nella secondaria di secondo grado abbiamo deciso di parlare anche di economia di scala che è un concetto uno dei concetti principi che vengono studiati in economia e che ci sembrava importante già anticipare appunto i ragazzi della secondaria di secondo grado poi un post che appunto parla di come andare a definire i costi totali quindi vedete una lezione che vi accompagna passo passo a declinare tutti gli elementi appunto del progetto a livello di numeri appunto costi innanzitutto e ricavi famoso prezzo per quantità qui parliamo anche di come stimare ovviamente i ricavi che spesso è ancora più complesso che ovviamente stimare i costi perché definire un prezzo è un po' un'arte è una scienza un'arte e quindi insomma poi entra in gioco tanti elementi anche psicologici emotivi quindi il tema degli sconti probabilmente i vostri ragazzi regaleranno magari un oggetto a qualcuno o a qualcun altro daranno un prezzo standard ancora o sconti o sovrapprezzi fino ad arrivare appunto alla stima di guadagno e perdita quindi un vero e proprio conto economico il conto economico che è uno degli elementi importanti del bilancio di ogni azienda e del business plan quindi della proiezione pluriennale di costi e ricavi chiude la lezione un conto economico su Excel quindi noi a questo punto abbiamo proposto proponiamo gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di secondo grado vedete qui uno screenshot un modellino questa è la pagina e la tabella di sintesi ma ci sono varie fogli di lavoro che ovviamente declinano in dettagli i ricavi a questo punto la complessità ipotizziamo più prodotti addirittura più costi sia variabili di produzione e distribuzione che fissi e quindi ovviamente la stima di nuovo di guadagno e perdita la stima è la riga fondamentale naturalmente qua potete scaricare i ragazzi e le ragazze possono scaricare il foglio Excel che abbiamo predisposto per tutte le simulazioni del caso vi ricordo che questo materiale è totalmente gratuito ma potete non soltanto utilizzare questo materiale ma anche magari andare soprattutto con i ragazzi e le ragazze del secondo grado attraverso tutte queste bellissime lezioni che appunto sono già usate per dei percorsi di PCTO e andare a vedere appunto come nasce, come evolve una startup come si trovano i finanziamenti anche dalle parole di founder quindi di persone che hanno effettivamente fondato una startup l'hanno vista crescere magari l'hanno anche venduta perché hanno fatto la famosa exit e dal punto di vista dei finanziatori i business angel che sono quelli che le persone fisiche che investono in modo personale su un'azienda e fino ai fondi di venture capital che invece sono degli operatori specializzati ecco qua bellissimo Chiara ci arrivano veramente tante risposte tanti messaggi di interesse bene, sono felice assolutamente divertitevi e fate divertire i vostri studenti e studentesse vedrete che piacerà ti faccio una domanda mi chiedono alcuni sono andati già a registrarsi bene quindi mi chiedevano ci dice per una settimana è gratuito ma poi cosa succede? questo è un feedback importante devo fare qualcosa allora registratevi come docenti scegliete la selezione docenti con la registrazione per una settimana accedete a tutti i contenuti di Redoc tutti gratuitamente quindi avrete accesso a tutta la primaria secondaria di primo e secondo grado l'università, la formazione professionale più di 85.000 esercizi interattivi più di 5.000 video più di 1.500 schede scaricabili alla fine di questa settimana potrete sempre accedere a tutte le lezioni gratuite senza nessun obbligo di pagamento in particolare giochi, laboratori e educazione finanziaria e alle lezioni che fanno parte del saggio gratuito che avete scelto in sede di registrazione nel vostro caso sicuramente seguendo le istruzioni avrete scelto secondaria di secondo grado quindi sempre gratuitamente potrete accedere a una porzione dei contenuti ve li faccio vedere di matematica, fisica, italiano e inglese disponibili in piattaforma noi seguiamo le indicazioni ministeriali e quindi trovate proprio da programmi ministeriali tutti i contenuti ultimo nato, letteratura, storia e filosofia ma insomma adesso stiamo lavorando anche per portarvi inglese altre due domande nel dubbio scrivete a scuola chiocciola redoc.com magari poi lo scrivo anche in chat magari sì, esatto chiedo a Michi se può scriverlo allora altre due domande ci fai rivedere al volo ci chiede Paola poi Paola dacci l'ok certo come trovo quella parte di economia allora andate sull'home page scorrete andate in secondo scroll educazione finanziaria cliccate economia due capitoli dall'idea di business alla start up e il business plan dentro al business plan trovate le tre lezioni a difficoltà crescente per la primaria per la secondaria di primo e di secondo grado eccolo qua naturalmente queste indicazioni precise cercherò di essere molto precisa Mirella te lo giuro le mando a Mirella che le pubblicherà sulla piattaforma Rotary per la sostenibilità per illustrarvi appunto tutto il progetto il programma e quindi anche l'accesso gratuito a questo materiale ultima domanda c'è qualcuno che è già iscritto Giuseppa bene e ci dice comunque riesco ad accedere a questa parte assolutamente anche se magari ha accesso gratuito è scaduto la settimana sì 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 le sezioni le sezioni giochi laboratori dove trovate un bellissimo percorso PCTO sui 17 gol dell'agenda 2030 dell'ONU tra le altre cose ed educazione finanziaria sono completamente gratuite sempre perché sono tutte attività che noi facciamo o in autonomia o in collaborazione con partner come in questo caso per esempio Rotary per la sostenibilità e scuola di robotica e noi teniamo gratuite sempre comunque sia per i docenti e anche per gli studenti in realtà grazie Chiara ci sono altre cose io me le sono segnate vediamo dato che non sono inerenti ad alcune osservazioni sul discorso di oggi se abbiamo tempo te le te le faccio poi in diretta prima di chiudere se no poi te le riporto con le mail dei docenti che ce l'hanno chiesto perché ci rimane lo storico quindi scusatemi se non riusciamo a rispondere a tutti per iscritto e quindi magari ma è venerdì sera dai ma è venerdì sera e non abbiamo Federico è venerdì sera per tutti ok comunque grazie grazie Chiara riprendiamo la io riprendo mi riprendo la palla da relatore bene ok e e poi fra poco Mickey preparati perché io faccio vedere una slide ma poi due slide tre slide non lo so quindi grazie a Chiara Burberi vi ricordiamo che accettando questa sfida con i vostri ragazzi con i vostri ragazzi con i vostri ragazzi e entrando nella piattaforma ruota di per sostenibilità ve lo facciamo vedere fra poco come si entra nella piattaforma e come vi iscrivete l'errore c'era anche nell'ora precedente ma sono due presentazioni diverse quindi l'ho riportato ho tolto le tre L vicino al ministero dell'istruzione e certificheremo come scuola robotica siamo interformatore le quattro ore di formazione se e solo se consegnerete con le vostre classi i lavori che vi abbiamo raccontato prima perché questo vuol dire certificare un percorso di formazione che avete fatto insieme ai vostri studenti e quindi ve li riconosceremo ma andiamo più sul tecnico abbiamo inserito e dal primo marzo da lunedì saranno disponibili i video tutorial dedicati a Tinkercad un bonus track questo non avevamo neanche avvisato Mirella abbiamo fatto una cosa in più rispetto a quello che avevamo promesso su un altro software 3D che si chiama Fusion 360 io amichevolmente lo chiamo Fusion ma il vero nome è Fusion 360 e quindi avrete la possibilità di decidere quale dei due software andare a utilizzare Tinkercad di cui vi parlerà Michela fra poco è più semplice sicuramente più accessibile Fusion 360 è invece già un software professionale ma che è sempre gratuito per il mondo scuola e quindi vi registrate e avete sia come studenti che come docente la possibilità di utilizzare il software in maniera gratuita e dato che vogliamo che studiate con i ragazzi e le ragazze la possibilità di arrivare a produrre un oggetto 3D pronto a essere stampato perché qualcuno lo stamperemo non tutti ma qualcuno lo stamperemo vi insegniamo anche a fare lo slicing quindi a tradurre il progetto disegnato in 3D con Tinker Fusion 360 in un progetto stampabile con delle stampanti in 3D prima adesso passiamo la parola a Michi e poi io faccio una parte sulla metodologia proprio dedicata al mondo della stampa 3D del disegno del CAD 3D Michi grande hai preso la palla da relatrice quindi ecco qua passo la parola a Michela cos'è Tinkercad non ti sentiamo Michi sei on mute ok ci sono perfetto quindi ci sono diverse funzionalità su Tinkercad adesso vi faccio vedere la prima che è quella consigliata scusate che mi si aprono le finestre perfetto la prima è quella consigliata per andare a creare l'oggetto che ricorda la città luogo del cuore e consiste nell'utilizzare delle forme geometriche che vedete qui a destra nello schermo che possono essere utilizzate e possono essere assemblate e messe insieme per creare il nostro oggetto finale quindi si lavora con tutte queste forme che sono già a disposizione e quindi non dobbiamo andarle a ricreare e ridisegnare da zero ma l'unica cosa che sarà richiesto fare è trascinarle sul piano che vediamo qui e posizionarle tagliarle modificarle in modo tale da andare poi a creare il nostro oggetto finale è sempre importante quando si lavora con i ragazzi soprattutto al liceo ragionare bene sulle unità di misura ragionare bene sulle dimensioni le conversioni e quindi vedere la lezione come una lezione a 360 gradi vedete qui per esempio io ho utilizzato due figure è importante sempre muoversi sui diversi piani e ci sono veramente tantissime figure che possiamo utilizzare qua sto scorrendo ce ne sono alcune che sono solo le base sono proprio forme base e poi ce ne sono tante altre quindi ci sono i testi i numeri ci sono i caratteri ci sono delle librerie che sono state create proprio ad hoc per alcuni progetti quindi sono già oggetti creati per esempio qua c'è un gatto ci sono sono state riportate anche grazie al contributo di un museo delle statue o dei pezzi di sculture di statue già realizzate quindi già disegnate che possiamo utilizzare nei nostri progettini e oppure stampare direttamente questa è la prima funzionalità di Tinkercad che possiamo utilizzare per andare a creare il nostro oggetto ovviamente nel tutorial poi ci sono tutte le informazioni specifiche proprio su come utilizzarlo come muoversi sul piano di lavoro come raggruppare gli oggetti come metterli insieme ci sono poi tutte le informazioni su come esportare salvare i vari file anche prima Emanuele vi ha citato il fatto di salvare il file e utilizzare dei software di slicing che sono quei software che ci permettono di andare poi a stampare l'oggetto quindi fornire le informazioni e le istruzioni alla stampante su come deve e quali sono gli step per stampare l'oggetto che noi abbiamo disegnato ci tengo però a precisare che Tinkercad ha delle altre funzionalità questa è solo una che ci permette di lavorare con delle forme base ma siamo noi che dobbiamo spostarle modificarle tagliarle c'è poi un'altra funzionalità che si chiama codeblocks e anche questa può essere utilizzata nella scuola secondaria di secondo grado che ci permette di andare a programmare il nostro ok scusate c'è stato un problema ma lo riapriamo al volo niente è crollato Tinkercad è crollato probabilmente il gatto mi ha fatto crollare Tinkercad e quindi lo provano di essere su scratch invece e non ti sentiamo neanche più Michi Michela io non ti sento secondo me Michela Mirella tu senti Michela no io sento sì e lei probabilmente è crollato il wifi facciamo i segnali di fumo non è mai successo questa cosa chissà cosa sentono gli utenti fra l'altro chiedo magari a Giulia ci date un feedback partecipanti su se sentite Michela oppure no no non si sente non si sente ok no non si sente allora aspetta faccio una cosa un po' cattiva ma le tolgo non ti sentiamo Michi Michela no niente no perché non ci guarda lei esatto e allora faccio ok ora è saltata mi sta provando e sta provando a riattivare ma le tolgo la cosa da relatore prima volta succede una roba così adesso Michela ci senti? no molto bene secondo me il caro vecchio telefono sì esatto brava forse si è resa conto la stai chiamando tu Milena sì ti sentiamo impreviste che succedono nella didattica a distanza siete vittime tutti i giorni immaginiamo e qualcuno si rallegra e dice beh non capitano solo a me queste cose no non capitano solo a voi capitano a tutti noi costantemente credo che poi a fine malcomune mezzo gaudio esatto sì sì secondo me si inventeranno gli psicologi il mal da didattica a distanza quindi Michela ti sta chiamando ma vediamo che lei non ci sente mentre Mirella e Michela cercano di risolvere questo problema io continuo poi Mirella ferma che quando Michela è di nuovo attiva sì sì io le mando anche un whatsapp la metodologia che vi invitiamo a utilizzare allora Michela ci sono i video su Tinkercad che potete usare sia voi che i vostri studenti Michela ora sta usando la chat quindi scusate le scrivo che non la sentiamo io le ho mandato anche un whatsapp perfetto e quindi vedi il giorno scusate chi ci conosce Federico che è il nostro tecnico e di solito è sempre online con noi oggi non poteva per questa edizione di solito non ci sono mai problemi ma ovviamente quando Federico se ne va via succede e io gli ho detto tranquillo ci sono io risolvo tutto perfetto siamo tutti nella stessa barca assolutamente sì quindi ora dovreste vedere adesso Michela uscita rientrerà tre parole sulla metodologia didattica quella che vi proponiamo è Think Make Improve pensa crea migliora proponete ai vostri studenti alle vostre studentesse di ragionare sul luogo su un profumo un cibo che rappresenti quel luogo e poi cercate di rappresentarlo ma proprio su carta con i pennarelli con le matite prima di andare poi a usare il software di CAD 3D lavorate proprio nella creazione nel cercare di rappresentare quelle idee lavorate a piccoli gruppi cercate di farli lavorare sulle emozioni sui sentimenti sul ricordo sulle sensazioni e poi cercate di farle rappresentare e quello che immagino è un laboratorio con fogli di carta arte che si incrocia con le emozioni dei ricordi e quindi cerchiamo proprio di lavorare manualmente anche magari con altri sistemi o altri materiali per riuscire ad arrivare alla rappresentazione di quell'emozione di quel luogo e poi e quindi facciamo e poi miglioriamo di solito quando si crea qualcosa non è mai come quello che avevamo in testa non è mai quello che aveva in testa ogni componente del gruppo e quindi invitiamo i nostri studenti a migliorare a riproporre perché partendo dalle mani dalla creazione l'apprendimento vive delle nuove fasi e poi ritorniamo al pensare a rifare e al migliorare in continuo ciclo e poi passiamo al software di CAD 3D solo dopo che avremo ben chiare le idee poi ci sarà però un problema nel software di CAD 3D non riusciremo a fare esattamente quello che abbiamo fatto magari con materiale di recupero con la carta con la plastilina con quello che è e allora impareremo che grazie al software 3D io lo strumento modifica le mie idee e quindi devo cercare di plasmare di essere flessibile ma quando ho realizzato l'oggetto in 3D con l'oggetto è condivisibile ed è anche stampabile nel caso abbiate delle stampate e se è condivisibile condivisibile con tutto il mondo e quindi rispetto all'oggetto precedente creato una sola volta è espandibile modificabile remixabile decidete quello che volete io intanto sto cercando di capire anche sotto traccia Michela è rientrata eccola qua ciao Michi o hai ancora il microfono disattivato? ci sono scusate ma mi hanno tolto internet a casa non sappiamo bene come mai scusate ho cercato un hotspot perfetto la parte comica dal mio punto di vista è che ti è prima crollato Tinkercad ma continuavi a vedere sentire e interrogheremo poi i nostri informatici per capire come funziona questa cosa e invece allora io ho praticamente finito la parte metodologica Michi ti chiedo di ricondensare in 3 minuti quello che stavi provando a raccontarci magari se racconti la gestione di classe di Tinkercad per cui hai fatto un tutorial però non è così conosciuto che si può gestire come classe quindi riprendi in mano la relazione e si posso anche non condividervi lo schermo perché tanto poi lo vedete nel tutorial è un tutorial che diciamo che è proprio diretto a voi insegnanti più che agli studenti perché c'è questa funzionalità molto importante con Tinkercad è molto utile soprattutto che è quella di creare delle classi virtuali su Tinkercad proprio quindi noi creando questa classe andando ad inserire tutti i nostri studenti la cosa bella è che possiamo fornire agli studenti un codice e un soprannome per ogni studente per accedere a Tinkercad cosa è il vantaggio? Il vantaggio è che lo studente in questo modo non dovrà registrarsi e fare un login su Tinkercad ma potrà semplicemente accedere senza la sua mail o senza la mail del genitore attraverso il codice che io insegnante gli fornisco per quella classe e attraverso il soprannome che io gli ho dato in questo modo è vantaggioso per gli studenti perché non devono loggarsi e dare delle credenziali e per me insegnante il vantaggio è che io posso tenere sotto controllo tutti i lavori che fanno gli studenti quindi io se entro su il nome di un determinato studente vado a vedere quali sono i suoi compiti quali sono i suoi lavori che ha realizzato inoltre c'è un'ultimissima funzionalità con Tinkercad che è di nuovo molto molto utile che è quella di lavorare in maniera condivisa quindi io posso aprire un lavoro posso fornire iniziare a lavorare posso fornire agli studenti un link di quel lavoro condividere con loro quindi quel lavoro e così tutti gli studenti possono collaborare lavorare come se fosse un doc di Google possono collaborare insieme e vedere che cosa sta modificando il suo compagno in questo modo soprattutto quando siamo a distanza è veramente importantissimo questo perché possiamo fare dei lavori di gruppo e anche se siamo a distanza ragionare tutti insieme spostare una forma base tagliare l'altra forma modificare il colore e così via quindi queste sono le due funzionalità importantissime di Tinkercad ti faccio una domanda a cui io non so rispondere al volo magari tu sì Eleonora ci chiede è possibile integrare le classi di Tinkercad con quelle di G Suite? Allora non ci ho mai provato direi di no perché è proprio una cosa che ti chiede di fare Tinkercad è creare la classe che poi la chiama classica magari in inglese ma non è quella di Google no perché ci sono più funzionalità quella che utilizziamo noi di solito è Classroom creare la classe ma poi ci sono altre funzionalità io ammetto che non ho mai provato con G Suite però il passaggio che faccio di solito io non mi permette di aggiungere G Suite e sono proprio io che sto creando la classe così e quindi devo inserire mano a mano lo studente mettere il suo nome il suo soprannome Giulia ci suggerisce lei suggerisce all'onora di mettere il link di Tinkercad su G Suite e farli passare da lì quindi in qualche modo una connessione più artigianale ma comunque funzionale e funzionale grazie a Michi stavo guardando l'ora ci rimangono una decina di minuti quindi vado a questa slide a cui tengo e quindi volevo assolutamente farla vedere perché sennò siate romantici perché perché vedete chiediamo alle vostre studentesse e ai vostri studenti di lavorare sui numeri con Excel sui soldi sulla progettazione sul disegno tecnico in 3D ma alla base di tutto questo se non c'è un lavoro sulle emozioni sul luogo sui ricordi su un profumo su un cibo ognuno di noi pensa a qualcosa e e e si sente meglio io alle spalle ho la mimosa e dovete sapere che non è la mia compagna la fan delle mimose ma sono io che adoro il profumo della mimosa e mi fa sentire a casa perché il comune vicino a me è famoso per le mimose e e mi fa sentire l'arrivo della primavera che è la stagione che preferisco quindi io costruirei una mimosa in 3D verrebbe un obrobrio probabilmente però partirei da quell'emozione lì da quel profumo lì che mi fa sentire la fine dell'inverno stagione che invece partisco clamorosamente quindi siate romantici e fate sì che i vostri allievi siano romantici perché senza questa parte ovviamente non riusciamo poi a creare degli oggetti interessanti a cui puoi dare un valore economico e chiara mi hai fatto molto piacere ma anche sorridere quando dicevi che è anche un'arte dare un valore economico quindi partiamo dagli excel ma poi riuscire a rappresentare con un valore economico un oggetto in cui hai messo passione sentimenti e non è banale ma è necessario perché nel mondo là fuori è necessario allora c'è una domanda che non capisco ma poi la risolviamo dopo chiara forse sei ti abbiamo visto frizzata quindi ora i collegamenti ci stanno ci stanno facendo un po' di boicottaggio e come ottenere il regalo questa è la parte clou la teniamo sempre alla fine caramirella come facciamo noi che siamo docenti a ottenere tutti questi video e tutti questi contenuti per per partecipare a questa challenge allora occorre registrarsi su rotaryperlasostenibilità punto it e andare proprio nella community dove c'è scritto registrati ecco entra nella community vado qua in alto a destra faccio registrati ed è una normale registrazione che chiede il nome dove si insegna e tutto e dopo di che siccome c'è anche un piccolo tutorial per dare le indicazioni come registrarsi ma è molto semplice come siamo tutti abituati oramai a registrarci nelle piattaforme poi invece bisogna registrare le classi perché un docente può partecipare anche con più di una classe però ogni classe deve avere diciamo un suo un suo account poi può crearsi anche un avatar o altro però sicuramente perché il progetto l'attività che svolge una classe non è la stessa di quella che svolge un'altra classe quindi un docente può registrare più di una classe infatti se c'è registra il docente poi scriviti come docente poi c'è registra la classe e quando vi siete iscritti come docenti avete registrato una squadra c'è scritto vuoi registrare un'altra squadra quindi non ci sono problemi ci sono docenti che hanno registrato anche nove squadre fantastico naturalmente a nove classi e poi c'è un'altra cosa c'è anche il regolamento della community dove bisogna rogare naturalmente per la privacy questo diciamo una volta che siete entrati e vi siete registrati regolarmente poi nel momento in cui partecipate e quindi mandate anche l'elaborato o altro già oramai diciamo tutto il problema legato alla privacy è già risolto quindi vi potete iscrivere da lì poi troverete tutti i link alla quindi entrate nella piattaforma iscrivete la vostra classe il vostro istituto da lì troverete tutti i link ricordiamo che i link a tutti i materiali che abbiamo visto o intravisto o di cui vi abbiamo raccontato non ci sono se ci registriamo oggi ma ci sono da quando Mirella nel primo marzo perché l'attività diciamo della 3D design challenge dura tutto il mese di marzo quindi dal primo al 31 e per rispondere anche a delle osservazioni di prima dentro la community proprio dentro l'attività trovate direttamente il link che vi porta alla lezione di economia su Redoc e quindi è tutto integrato trovate tutto questo materiale e potete così partecipare alla challenge essendo una challenge ci sono anche dei premi e credo che Scuole Robotica hanno fornito dei premi durante tutti i mesi del progetto che è partito adesso non vi ricordo se la prima challenge era ottobre Mirella correggendo novembre novembre ci siamo divisi i premi questo mese il premio è fornito da Scuola di Robotica e quindi partecipando a questa challenge potrete vincere dei laboratori digitali a distanza con i nostri formatori dedicati ovviamente al coding alla robotica alla sostenibilità e a un libro di Itaro Calvino che sono le città invisibili quindi ci siamo inventati proprio perché avete capito che ci piace questo legame fra le materie umanistiche e le materie scientifico-tecnologiche dei laboratori per i vostri studenti in premio con appunto le città invisibili di Itaro Calvino ricordiamo ok scusate io leggo la chat ma avevo un messaggio che non capivo ma era una battuta e quindi non avevo compresa perché qua quando leggo mille messaggi scusami Giuseppe allora quindi all'interno della piattaforma poi voi anche senza loggarvi avete tantissimi contenuti fra l'altro anche prodotti dalla community stessa e quindi se andate su focus contributi della community potete scoprire i lavori che abbiamo selezionato delle altre scuole e quindi qua ovviamente ci sono i primi contenuti che abbiamo selezionato caricheremo poi nelle prossime settimane i contenuti che hanno già che hanno fatto durante il mese di gennaio dedicati al machine learning per esempio e poi Mirella ultimo ma non ultimo il concorsone il concorso più grande che è una call to action per la sostenibilità dove ci rivolgiamo naturalmente a tutte le scuole ci sono c'è tutto il regolamento e c'è anche la presentazione con un webinar in cui abbiamo dato anche tutta una serie di suggerimenti e di contributi per come partecipare che cosa si chiede di creare un'azione che sia coerente con le grandi tematiche dalla sostenibilità ai cambiamenti climatici la plastica tutto quello che vogliamo ma che sia un'azione concreta che si può fare in famiglia a scuola nel quartiere nel cortile o altro e possa essere naturalmente misurata per capire come poi può influire sulla salvezza diciamo del pianeta anche qui diciamo abbiamo fatto tutto un percorso anche diciamo di come poter lavorare soprattutto sottolineando il senso che il docente deve essere più diciamo uno tutor che è un e lasciare ai ragazzi e penso anche in questo caso della challenge proprio di poter anche sbagliare e poi correggersi per essere realmente protagonisti perché non voglio citare una vecchia cosa di importante partecipare ma nella partecipazione ognuno veramente si sente protagonista e si sente attore non si sente soltanto diciamo usufruitore ma anche attore e autore autore è vero questo è molto è molto bello quello che hai detto quindi protagonista lo studente protagonista è una delle cose che ci accomuna fra rota ripreso stabilità redoc scuola di robotica ci siamo trovati tutti bene perché abbiamo proprio questo pensiero di fondo questo valore di fondo che ci accomuna che ci guida in questo mestiere molto particolare di lavorare con le scuole nella formazione anche se non siamo dentro la scuola e quindi siamo molto contenti di tutto ciò siamo arrivati praticamente alla fine abbiamo citato call to action abbiamo raccontato come partecipare alla design challenge insomma correte a registrarvi direi che questo è il momento c'era ancora una cosa Mirella che volevamo far vedere vediamo se sono fortunato il prossimo appuntamento ce la posso fare perché in Rotary per la sostenibilità ora io lo cerco dal sito di scuola di robotica perché so di trovarlo al volo è trovato eccolo qua passion and industry 20-30 questo è un appuntamento che fa parte di un percorso formativo che ha già visto alcuni appuntamenti già fatti dedicati all'educazione alla partecipazione è sempre riconosciuto dal ministero di istruzione potete registrarvi dal sito di Rotary per sostenibilità e dal sito di scuola di robotica prossima puntata mercoledì 3 marzo 17-18 parleremo con la professoressa Francesca Romana Rinaldi docente dell'Università Bocconi di Sdabocconi e del Master in Fashion and Luxury parleremo di sostenibilità nel mondo della moda e parlando con Francesca io ho avuto già la fortuna di seguire e collaborare con Francesca scoprirete e potrete far scoprire anche i vostri studenti e le vostre studentesse come la moda ha un impatto un'impronta ecologica molto importante e dobbiamo lavorare sulla sostenibilità e sensibilizzare tutti noi su questo tema Mirella prima ti sentivo male quindi sono andato avanti io per coprire eventuali problemi tecnici va benissimo ma proprio riandando a educare alla partecipazione gli argomenti che abbiamo scelto che sembrano slegati ieri abbiamo parlato ieri no forse l'altro ieri abbiamo parlato di la narrazione per immagini ora della moda poi parleremo del mare della legalità o altro non sono slegati tra di loro hanno un filo rosso che li lega quello di dare contenuti ai ragazzi e sollecitare la loro curiosità anche su argomenti che non sono prettamente scolastici però sono della loro vita ed entrano nel momento in cui loro sono cittadini e quindi è importante cioè partire anche da lì per poi fare anche altro nel disciplinare ma se tu non hai la curiosità e l'interesse a metterti in gioco non partecipi poi a niente esatto e quindi partecipate anche a questo corso se volete anche questo corso riconosciuto dal ministero di istruzione attraverso la certificazione fornita da noi e potete recuperare anche le registrazioni registrandovi sul sito di scuola di robotica trovate proprio il corso completo con il questionario che verrà pubblicato solo alla fine direi che siamo puntuali Chiara vuoi aggiungere qualcosa? No direi anzi registratevi su Redoc andate su queste lezioni appunto che vi ho interessato di economia dateci feedback noi siamo convinti che appunto non servono prerequisiti se avete bisogno di supporto scriveteci usate i bottoncini fai una segnalazione ma qualunque commento è veramente benvenuto perché il nostro obiettivo è migliorare costantemente il materiale che vi diamo a disposizione per voi soprattutto per i vostri studenti e studentesse buon lavoro dai numerosi feedback positivi che sono arrivati Chiara secondo me questa sera un po' di docenti inizieranno a esplorare il materiale felice felice davvero grazie grazie a te e grazie per i contenuti che hai fornito e che saranno veramente preziosi per un bellissimo lavoro da parte dei docenti e dagli studenti arrivano numerosi complimenti e ringraziamenti che riporto a tutti voi che avete partecipato e a Mirella che ci coordina benissimo e quindi salutiamo Michela e così poi vi faccio fare il saluto grazie Michela grazie Chiara grazie Emanuele grazie a voi tutti che siete rimasti fino alle 19 e 16 e speriamo di rincontrarci invece nella community se avete problemi per la challenge piuttosto che per il concorso info chiocciola rotary per la sostenibilità punto it vi rispondiamo subito buona serata a tutti è grazie arrivederci buonasera buonasera ciao buonasera non c'è Federico quindi la chiusura tocca forse a me ma ce la faccio io c'ho questa gag